Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. L'arma dei carabinieri oggi festeggia 210 anni dalla sua fondazione. I dati relativi alla criminalità nel territorio arettino, secondo appunto l'osservatorio dei carabinieri, sono rimasti stabili. Sentiamo allora ai nostri microfoni il comandante Claudio Rubertà e il prefetto di Arezzo. La criminalità di Arezzo non è peggiorata, è cambiata probabilmente un po' la percezione di sicurezza, magari che riguarda soprattutto il decoro e la vivibilità delle città, ma il monitoraggio è alto, l'attenzione è alta e la soglia dell'attenzione è sempre massima, chiaramente tutto può essere migliorato e faremo il possibile migliorarlo. Ci sono fronti sui quali si sente di, non dico impegnarsi di più, ma sui quali avere una sticella un po' più alta dell'attenzione? Sì, sicuramente nel primo posto sempre il contesto alle infiltrazioni mafiose, che riguarda il territorio e tutta la parte economica del territorio e lo sviluppo. Poi c'è la tutela della condizione giovanile che è fondamentale, delle vittime vulnerabili, delle donne, minori e la tutela del lavoro. Ecco, Prefetto, 210 anni di storia, l'arma dei Carbinieri sempre vicina alla gente, ma in questo caso anche il Palazzo della Prefettura, mi permetto di dire, insomma da quando c'è lei è sicuramente più aperto ai cittadini. Il confronto forse è la chiave per migliorare una sicurezza anche percepita. Beh, sicuramente il confronto, il dialogo, ma anche la grandissima collaborazione. C'è una grande sinergia, una grande voglia di lasciare un segno sul territorio, di tenerlo monitorato, controllato e garantire la giusta sicurezza ai cittadini. Quindi cercando di mettere in campo tutte quelle attività che sono indispensabili per aumentare la percezione di sicurezza. Chiuso un bar a Montevarchi che secondo gli inquirenti era diventato nel tempo un abituale luogo di ritrovo per persone con precedenti penali e che ha visto numerosi episodi come liti e risse e di conseguenza interventi delle forze dell'ordine. Dopo i dovuti accertamenti da parte degli agenti del commissariato di Montevarchi è stato il questore a disporre appunto la chiusura del locale che sarà per 15 giorni. Il bar si trova proprio nel centro storico della cittadina valdarnese. Adesso invece parliamo di inflazione. Sono davvero allarmanti i dati che sono stati diffusi dalle ACLI, in particolar modo attinti dalle dichiarazioni dei redditi insomma dei cittadini che si sono rivolti ai loro sportelli CAF dal 2019 al 2023. Fino a sei carrelli della spesa persi in un anno è quello che emerge dai risultati di una ricerca condotta dal CAF ACLI e IRF finalizzata a fotografare le dinamiche reddituali e fiscali delle famiglie retine. Il rapporto prende in considerazione le dichiarazioni dei redditi tra il 2019 e il 2023. La perdita del potere d'acquisto è evidente e aumenta il numero delle famiglie finite sotto la soglia di povertà. Sei carrelli della spesa sono anche questo un dato significativo. Abbiamo assunto che ogni carrello della spesa è di circa 90 euro in media e quindi sei carrelli sono oltre 500 euro all'anno. Dati davvero allarmanti che dovrebbero spingere i decisori politici non solo nazionali ma anche locali ad attenzionare, a cercare di istituire un tavolo su questo problema perché il disagio è davvero latente. Il dato che emerge su tutti è quello del profilo di famiglia in cui emerge la maggior difficoltà ovvero quello in cui si hanno monoredditi quindi famiglie monoreddito con familiari fiscalmente a carico. Questo è il profilo dove si raggiungono dei livelli di difficoltà ad arrivare alla famosa quarta settimana maggiore rispetto agli altri. Quindi immaginiamo persone vedove, vedovi che si trovano nelle difficoltà di dover pagare anche un affitto e avere un carico di famiglia da sostenere. Magari coppia dove lavora solo uno dei due. Oppure coppia dove lavora solamente uno dei due ci sono dei bambini da guardare, da mandare all'asilo. Asilo di Dora, questi aspetti non sono stati presi dal nostro report le spese scolastiche però ecco... Ci sono. Ci sono e pesano. La cosa che conforta il nostro territorio e che va in controtendenza rispetto al dato nazionale è quello che non c'è differenza tra la città e la cintura della provincia quindi diciamo che a livello produttivo abbiamo un equilibrio tra la città e le vallate quindi questo è l'aspetto importante perché invece in altri capoluoghi abbiamo la differenza tra il capoluogo di provincia e la cintura attorno in cui la cintura attorno soffre maggiormente questo problema. Giovani studenti del tecnico industriale Galileo Galilei di Arezzo hanno vinto un premio per una loro invenzione. Si tratta di una pen di abiti riscaldabile che si chiama IT. Con questa creazione hanno appunto partecipato al concorso organizzato da Artes Lab e sono risultati vincitori proprio in Toscana giudicandosi appunto il primo premio. Hanno tutti un'età tra i 16 e i 17 anni e quindi davvero complimenti a questi ragazzi. Sono Matteo Bigazzi, Matteo Carnevale, Alessandro Cecconi, Niccolò Ghezzi e Thomas Moretti. Un'altra scolaresca ha ricevuto oggi un bellissimo messaggio di ringraziamento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Parliamo della scuola Martiri di Civitella. Come sappiamo il coro dell'Istituto aveva intonato lo scorso 25 aprile l'inno di Mameli proprio in occasione della visita del Presidente. Questa mattina comunico con piacere, ha detto la Preside, di aver ricevuto una telefonata da parte del Direttore dell'Ufficio Segreteria del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio per ringraziare e fare i complimenti al coro dell'Istituto e a tutti i partecipanti ovviamente alla giornata del 25 aprile. Il Presidente in particolare ringrazia per la lettera consegnata proprio nelle sue mani a nome di tutti i ragazzi della scuola secondaria e da parte degli studenti rappresentanti del gruppo Democrazia e Partecipazione. Parliamo ancora di scuola ma in questo caso di Orienting. È stato davvero un successo l'evento che si è svolto a Camucia. È una specie di caccia al tesoro dove i ragazzi devono orientarsi, scegliere la direzione, la strategia e quindi è una sorta di scelta della vita per la vita perché i nostri ragazzi devono essere educati all'orientamento, alle loro scelte, consapevoli ed autonome. Una mattinata di festa con oltre 150 giovani e giovanissimi impegnati nella sfida a colpi di orientamento. A Camucia è il secondo campionato provinciale di Orienting. Il campionato è stato organizzato dal comune di Cortona insieme al provveditorato agli studi, insieme alla società sportiva Stella Polare che è l'unica società di Orienting che abbiamo creato direttamente dalla scuola. Abbiamo riempito di gioia, di rumori, di giovani la piazza e tutta Camucia e con l'aiuto anche del comune di Cortona siamo riusciti a ritornare tutti sani e salvi perché l'orienting ogni tanto ne perdiamo qualcuno. Le scuole sono quattro scuole superiori, quindi il Signorelli di Cortona, Castiglion Fiorentino e due scuole di Arezzo, precisamente il classico e lo scientifico e poi i due istituti comprensivi Cortona 1 e Cortona 2. Per tutti i partecipanti una mappa senza i nomi delle strade con una sorta di caccia al tesoro per effettuare un percorso in cui la differenza la fanno la capacità di orientarsi senza GPS e l'utilizzo di tecnologie. Diciamo che questo è un po' il preludio, l'antipasto di quello anche che ci sarà il prossimo anno e ci sarà la finale di Coppia Italia, la sprint, proprio a Cortona e sarà aperto ovviamente anche ai ragazzi, alle scuole e praticamente diciamo ci saranno anche tutte le categorie e ci saranno anche atleti di altissimo livello, si parla di centinaia di atleti. La manifestazione questa è stata veramente bellissima, ci ha assistito un tempo bellissimo i ragazzi sono usciti veramente molto divertiti. Ancora un importante investimento da parte del patron di Prada, Patrizio Bertelli si è aggiudicato all'asta un altro palazzo nel centro storico di Arezzo. Palazzo Carbonati, l'immobile cinquecentesco che il comune di Arezzo ha messo all'asta è stato assegnato a Patrizio Bertelli, presidente ed amministratore esecutivo del gruppo Prada probabilmente l'unico ad aver presentato un'offerta. Il prezzo base di partenza era fissato ad 1.592.000 euro manca adesso solamente l'ufficializzazione da parte del comune ma dovrebbe essere questione di giorni. Il maestoso edificio che si trova a pochi passi da Piazza Grande dove Bertelli è nato oggi versa in uno stato di degrado avanzato sarà riqualificato e tornerà al suo splendore e prestigio. Al momento non è però nota la destinazione che avrà il palazzo che si trova in via Albergotti nel cuore della città. Secondo indiscrezioni potrebbe trasformarsi in una struttura ricettiva di lusso. Prosegue così il progetto dell'imprenditore di ridare vita e splendore ai luoghi che hanno fatto la storia di Arezzo. Bertelli aveva già rilevato locali storici come il Caffè dei Costanti immortalato anche nel film La Vite Bella e il ristorante La Buca di San Francesco e La Capannaccia. Aveva anche investito nell'edicola di Piazza Sai Jacopo. A febbraio infine la donazione di un milione di euro per il restauro della Pieve di Santa Maria. Venerdì prossimo ad Arezzo il Privacy Day Forum con i professionisti e proprio della protezione dei dati personali. Per la prima volta a questo evento ospitato dall'Arezzo Fiere e Congressi parteciperà anche l'Associazione AICA. Il suo presidente Antonio Piva ha detto la cyber sicurezza è ormai diventata centrale per ogni cittadino e per i professionisti dell'informatica. AICA sarà presente anche con uno stand dove i partecipanti potranno liberamente mettere alla prova le proprie conoscenze sul tema di strettissima attualità ovvero l'intelligenza artificiale e chi lo desidera potrà anche sostenere l'esame per la certificazione appunto proprio sulla protezione dei dati personali. Parliamo adesso di una serie di eventi facendo intanto un passo indietro. Andiamo al 2 di giugno. Come sappiamo in Italia si festeggia la nostra Repubblica ma è anche un'altra ricorrenza forse non così conosciuta ovvero l'anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi. Il 2 giugno purtroppo è la data in cui è morto l'eroe del mondo di Giuseppe Garibaldi ma è anche il coronamento di un pensiero, quello garibaldino che è la festa della Repubblica e lui è stato uno dei primi repubblicani perché la Repubblica Romana è stata per lui un impegno molto gravoso è costato molti sacrifici e si parte da lì perché anche la nostra Costituzione molti punti vengono ripresi dalla Repubblica Romana di Garibaldi e i Mazzini per cui oggi per noi è un giorno molto importante. Era il 2 giugno del 1882 quando Giuseppe Garibaldi morì nella sua amata caprera in occasione della festa della Repubblica a Montevarchi in piazza Garibaldi l'associazione nazionale veterani e reduci Garibaldini ha celebrato la ricorrenza nel ricordo dei 140 anni dalla dedica dell'obelisco della città a Giuseppe e Anita Garibaldi. I monumenti come questo servono per ricordare determinati personaggi come appunto Giuseppe e Anita Garibaldi e quindi è importante per la cittadinanza fare eventi come questi perché è a questo scopo che erano eretti i monumenti, cioè ricordare. Il generale Giuseppe Garibaldi, grand'uomo, un uomo di sfiducia partiva, andava, bastava un biroccino che girava tutta Italia dove lo chiamavano andava facendo delle battaglie e le vinceva tutte lui aveva un grande spirito. Persone come per me, persone come noi oggi non ce ne sono, magari. È una figura trasversale che unisce il popolo anche con i vertici e questo è servito proprio per fare dell'Italia di allora frammentata un paese unico che ancora oggi esiste e che oggi soprattutto finalmente è democratico e repubblicano. E si è concluso domenica 2 giugno anche il primo weekend del Festival I Cammini di San Francesco. Da Monterchi a Pieve, Santo Stefano, passando per Anghiari, Citerna e San Giustino tanti gli eventi in calendario che hanno interessato questi comuni nel corso del primo weekend di appuntamenti del Festival dei Cammini di Francesco in Alta Valle del Tevere. A Monterchi il professor Marino Niola ha fornito un'interpretazione prettamente antropologica del concetto di dono mentre a Pieve, Santo Stefano, il dialogo fra Giovanna Zucconi e il professor Vittorio Lingiardi ha aperto una finestra di riflessione dal punto di vista della psicanalisi. A Anghiari, Giovanni Scifoni con lo spettacolo Fra invece ha offerto una personalissima interpretazione di San Francesco. Vado padre, fai! Sabato primo giugno la tappa di Citerna ha visto la partecipazione del professor Stefano Zamagni che ha sviluppato da un punto di vista prettamente economico il concetto di dono e fiducia. La giornata poi si è conclusa con lo spettacolo Rumba di Econa Scanio Celestini che ha fornito la sua personale rappresentazione di un San Francesco ai giorni d'oggi la vita del poverello di Assisi nell'Italia contemporanea. Sente il lebroso e poi lo vede, lo vede e gli fa schifo il lebroso. A chiudere il primo weekend domenica 2 giugno gli incontri a Villa Margherini Graziani a San Giustino sul tema delle migrazioni e della sofferenza. Come ogni anno non sono poi mancate le apprezzate escursioni organizzate dal Circolo degli Esploratori di Sansepolcro alla scoperta dei tesori naturalistici della vallata. Le quattro camminate hanno infatti registrato il tutto esaurito. Con il prossimo servizio rimaniamo in Casentino perché il 17 di luglio, quindi manca poco più di un mese, prenderà il via l'edizione 2024 del Festival Naturalmente Pianoforte che porterà nomi davvero importanti del panorama musicale nella bellissima e ridente vallata del Casentino. Tra le tante iniziative ce n'è una, quest'anno davvero una novità, che si chiama la carovana. Sarà infatti possibile partecipare appunto al Festival facendo anche una camminata di 5 giorni. Sentiamo. Questa carovana è un esperimento nuovo sicuramente per il Festival e per quel che conosco io, anche un po' nel panorama degli eventi culturali simili che esistono, perché cerca di mettere insieme tanti ingredienti, ma fondamentalmente la sfida è quella di vivere il Festival in un modo più lento, quindi perdendosi alcuni dei tanti eventi bellissimi che il Festival propone, ma proprio per entrare più in profondità nell'esperienza di quelli che invece sarà possibile assistere e usufruirne. Quindi è un'esperienza di cammino prima di tutto, ci si muove a piedi. Dal primo giorno ci si trova il mercoledì alle 9 e fino alla domenica alle 6 ci muoveremo quasi esclusivamente, con una piccolissima eccezione, solo a piedi. E questo vuol dire andare più lenti, ma avere più possibilità di essere presenti a quello che stiamo vivendo, perché spesso spostandosi in auto fra una cosa e l'altra si corre un po' il rischio, come dicono gli indiani, che la nostra anima non ci segua e portiamo il nostro corpo a essere presente, ma senza essere tutti interi. Gli eventi che saranno organizzati saranno, prima di tutto, ogni sera dove saremo ospitati da delle varie comunità locali, ci sarà sempre un concerto della serie della musica nei borghi, che era già stata un'iniziativa del Festival di due anni fa. Quindi i borghi dove dormiremo, dove saremo accolti a cena e a dormire, avremo sempre un concerto. Ma non saranno solo questi gli eventi culturali, perché nella carovana faranno parte degli artisti, un musicista, che sarà fra l'altro anche colui che suonerà il concerto nella prima sede, nella prima tappa, che però è anche attore, Luca Mauceri, ci sarà un'attrice, Miriam Bardini, di Rilevanza Nazionale, ci sarà una pittrice che fa live painting. Io nel mio piccolo faccio stone balancing, sono un dilettante, però è una forma d'arte, di arte, land art, come viene chiamata adesso, e quindi questo ci permetterà, mentre il cammino si rispiega, di fare delle soste artistiche, alcune dedicate semplicemente alla scoperta di alcune tradizioni, quindi delle letture, delle messe in scena di alcune situazioni, leggende, del territorio che staremo attraversando, altre dedicate ad eventi storici, rilevanti, che sono accaduti 80 anni fa. Nel 2024 ce l'abbiamo 80 anni da quando su questo territorio insisteva la linea gotica, quindi un periodo molto difficile, e cercheremo di fare non solo delle commemorazioni, ma di vivere in qualche modo, di, come dire, non solo fare omaggio a loro, ma imparare qualcosa per noi. Ecco, quindi tramite gli attori e gli altri laboratori che verranno proposti, cercare di andare ad emozionarci per imparare qualcosa, per uscirne in parte migliori. Ecco, quindi, come dire, sono tanti gli ingredienti che vengono messi insieme, il comune denominatore è quello del vivere più intensamente questa esperienza, dedicandogli cinque giorni interi. Allo stesso tempo però ci sarà la possibilità, che ancora dobbiamo definire esecutivamente, insomma, progettualmente meglio, ma sicuramente la garantiremo, di partecipare anche solo in giornata a chi non può abbracciare tutta l'esperienza, ma venendo al festival vuole almeno un giorno stare con noi. Shopping, divertimento e condivisione, tutto pronto per la festa di Pescaiola, da vivere in calendario sabato 8 giugno. L'evento organizzato da Confcommercio è il secondo che inizia appunto tutta la serie di eventi che poi ci portano all'estate, il secondo dopo Salleo, su iniziativa ovviamente dei commercianti della zona. La festa inizierà alle 17, quindi da quell'ora ovviamente sarà chiuso il traffico, in questo caso in Via Alessandro Dalborro, Via Benedetto Croce, il largo primo maggio, ci saranno come sempre spettacoli, eventi, shopping e negozi aperti. E siamo adesso allo sport, presentato questa mattina il nuovo allenatore della SBA, ovviamente parliamo della prima squadra. È Alessio Fioravanti il nuovo allenatore della prima squadra della scuola basketarezzo che parteciperà al campionato di Serie B 2024-2025. Dal primo giorno che ci siamo sentiti, c'è stato veramente un buon feeling, e quindi è una persona, come si dice a Rezzo, schietta come me, quindi penso che noi lavoreremo molto bene con lui. Toscano, di Livorno, dopo essere cresciuto nel Don Bosco, Fioravanti affronta le prime esperienze da tecnico a Via Reggio e Lucca, prima di approdare all'Use Empoli, poi le esperienze vittoriose a Domodosso le Pirate Scagliari, quindi responsabile del settore giovanile di Palestrina, poi di Basket Bergamo 2014, infine il ritorno ai senior a Ponte San Giovanni, prima dell'approdo all'amatori Pescara. Come tutte le avventure parte con molto entusiasmo, sono molto contento di essere stato nominato allenatore in questa società. Come ho detto, non sono uno che ha obiettivi a lungo termine, non fa progetti troppo difficili da raggiungere, sono una persona a cui piace vivere giorno per giorno, cercando di lavorare al meglio per poi ottenere i frutti la domenica in partita. Il primo progetto ovviamente sarà la composizione del roster, ci sono già state delle conferme, come Facundo Toia, cosa mira a costruire? Innanzitutto ho avuto la fortuna che comunque, come mi ha detto il Presidente, è stata una delle poche volte in cui viene confermato un giocatore prima dell'allenatore, gli ho detto avete fatto bene perché comunque è un giocatore di valore, con Facundo poi ci ho già anche parlato, quindi è un ragazzo disponibile. Ora ovviamente, perché fare le squadre non è mai facile, non è come mettere insieme i pezzi di un puzzle, bisogna cercare di trovare i giocatori con le caratteristiche giuste, ma prima di tutto gente che ha voglia di venire a Rezzo per mettersi in mostra e poi magari arrivare a giocare anche a livelli più alti. L'allenatore livornese guiderà anche una squadra del settore giovanile. Puntiamo tantissimo sul settore giovanile, qualche ragazzo sarà inserito nel roster di quest'anno, Alessio ha questa prerogativa che lavora bene con i giovani e quindi penso che questo binomio possa durare a lungo. Poter attingere dal settore giovanile a giorno d'oggi è diventata una prerogativa importante e quindi anche con il lavoro con il settore giovanile dobbiamo cercare di creare giocatori che in un prossimo futuro possano ambire a arrivare in prima squadra. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie per l'ascolto e arrivederci.